Eccoci qui, il venerdì village, ospite guardate, indirettamente da canale 5, lei la velina bionda più bella ospite questa sera al convento neonato. E' vestita di rosso, ha lo smalto rosso e ha il rossetto rosso, ha tutto per una serata di fuoco. Questa bellissima ragazza si chiama? Elena. Elena da dove vieni? Da Brescia. Da Brescia, da Brescia, da Brescia. Quando è che ti sposi? Il 30 giugno. Il 30 giugno con? Alessandro. Con Alessandro. Tu sei originale di Brescia? No, sono rumino. Ah, vedi che c'era uno scioglilingua, perché lei non era una ragazza da spiedo, da polenta con gli uccellini. Si sente che lei è una ragazza che viene dai paesi caldi dell'Europa. Allora, come mai hai deciso di sposarlo? Come mai hai detto, vuoi dirgli di sì? Perché stiamo bene insieme, sì, ci amiamo. Ok, come hai deciso di fare questo passo. Ok. Secondo te, dimmi tre cose perché il passo venga fatto. Tre motivi per dire di sì a un uomo. Perché mi dà fiducia. Sì, fiducia? Fiducia e tranquillità. Tranquillità, sì. Stiamo bene insieme, non so. Ok, da quante è che siete fidanzati? Da sei anni. Ehm, sei anni. Allora, dimmi in sei anni cos'è la cosa che ti ha fatto arrabbiare di più? Non li ricorda, non l'ha fatta mai arrabbiare. E invece il regalo... Mi arrabbio facile però... Ti arrabbio facilmente. E invece il regalo più bello che ti ha fatto? L'anello. L'anello di fidanzamento? Quindi ti darà un mega anello anche al matrimonio. Quello vedremo. Quello vedremo. Dove andate in viaggi di nozze? Messico. Wow, Messico, Playa del Carmen? No, lo so. Ah, è sorpresa, sorpresa. Però so che andrà in Sud America. Qui ti auguro un buon matrimonio, una buona vacanza e soprattutto un grandissimo nubilato qui del venerdì notte del convento illonato. Lo salutiamo? Ciao e buona serata anche a lui se festeggierà sul celibato qui al convento illonato. Ciao. Ciao. Ciao.